Incentivare la digitalizzazione commerciale delle piccole e medie imprese pugliesi per raggiungere con più facilità i mercati esteri è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a Lecce tra Amazon e la Regione Puglia, rappresentata dall'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inocci, Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager di Amazon Italia e Spagna. Un protocollo d'intesa volto essenzialmente ad aiutare ad essere a fianco alle tantissime piccole e medie imprese pugliesi perché si avvicinino sempre di più al digitale e al mondo dell'e-commerce che presenta tantissime opportunità in primis la possibilità di raggiungere i mercati esteri e quindi di aumentare in maniera significativa all'export. Oggi su Amazon ci sono già 1700 imprese in piccole e medie pugliesi che producono 50 milioni di export. Il nostro obiettivo è attraverso questo protocollo di intesa di aumentare in maniera significativa questo numero di imprese e questo fatturato. Amazon celebra in Puglia tra Lecce e Otranto il decimo Prime Day con centinaia di migliaia di offerte su un'ampia selezione di prodotti. A Lecce in Piazza Santo Nonso avremo un'installazione immersiva dove sarà possibile scoprire tutti i benefici di Prime tra il 12 e il 14 di luglio poi ci saranno degli eventi serali nel convento dei Teatini e poi abbiamo invece nella spiaggia degli Alimini a Otranto proprio una sorta di villaggio Prime e ancora sarà possibile per tutti i clienti avvicinarsi al mondo Prime e scoprire i moltissimi benefici che sono ricompresi nell'abbonamento Prime. Avremo veramente di tutto, avremo ovviamente tutte le nostre categorie dall'elettronica, i prodotti per la casa, l'abbigliamento eccetera e avremo soprattutto tantissimi prodotti made in Italy, quindi tantissimi prodotti di piccole e medie imprese, quindi 16-17 luglio su Amazon sarà la festa per i clienti, sarà veramente un'occasione per risparmiare moltissimo. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.